I carabinieri della sezione di Campagna, in collaborazione con le militari della sezione di Eboli, agli ordini del capitano Luca Geminale hanno tratto in arresto nella fragranza del reato di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo marijuana i coniugi 19 anni residenti in Eboli. A seguito di perquisizione locale e domiciliare, i due venivano trovati in possesso di un involucro contenente circa 150 grammi di marijuana, tre dosi già pronte della stessa sostanza, la somma contante di circa 100 euro in più banconote di diverso taglio, ritenuto provente dell'attività di spaccio, ed altro materiale utile al confezionamento e riduzione in dose dei stupefacenti. Dopo le formalità di dito, entrambi sono stati condotti presso la loro abitazione, dove permarranno in regime di arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida innanzi al GIP del Tribunale di Salerno.